Eccoci. Buonasera e benvenuti a tutti. Ciao Daniela, come stai? Ciao, molto bene Gianni, grazie. Buonasera, benvenuti a tutti. Molto bene. Allora partiamo anche questa sera, vediamo, sì, state arrivando, quindi abbiamo fatto tutti i collegamenti giusti. Allora, buonasera, giovedì 1 luglio, partiamo con la presentazione, questa sera andiamo in Scozia. Abbiamo di nuovo con noi la nostra amica Daniela che ci supporta per questo ultimo nostro intervento prima della pausa estiva, riprenderemo poi intorno a metà settembre, il 15-20 settembre. Daniela ormai la conoscete, è la responsabile, il product manager per quanto riguarda il gruppo Quality Group e nello specifico per Europa World, per una parte dell'Europa che vuol dire il Portogallo con le azzorre comprese che quest'anno sono andate alla grande, vero Daniela? Assolutamente sì, le stiamo per fare sprofondare praticamente. Probabilmente sì, veramente. Post pandemia saranno meno isole delle nove che vi ho raccontato nella scorsa edizione, perché qualcuna sarà sprofondata dai turisti. Penso che a Sordislanda siano le due metri più gettonati dai viaggiatori che non possono uscire dall'Europa e quest'anno si concentrano su queste destinazioni. Poi copri la parte della Macedonia, quindi una parte della Grecia, dei Balcani e poi la parte della Gran Bretagna, quindi tutti i paesi dall'Irlanda all'Inghilterra e ovviamente la Scozia dove ci porti questa sera. Esatto. Io sono con la compagnia, oggi è il primo luglio e del mio compleanno, mi faccio gli auguri da solo e mi sono portato una compagna di viaggio che era, come qua, eccola qua, la mia amica Carolina che mi hanno messo come sfondo, che mi è molto spaventata. Mi hanno detto che sono in tono, quindi va tutto bene, adesso metto anche le chat così vedo e grazie mille per gli auguri a tutti. Che dire, io partirei e comincerei ad andare in Scozia per vedere questo paese magnifico, io lo conosco molto poco ma sono molto molto curioso, ho visto alcune belle cose. Vai, parti con la... Condivido lo schermo. La condivisione dello schermo. Apriamo la presentazione. Intanto mi metto, allora, così. Allora. Guarda che bella foto di sfondo, magnifica. Di apertura. Allora, iniziamo a fare una piccola rassegna delle cose più importanti che ci sono, come dire, scorse, gli highlights, le cose più emozionanti, no? Perché la Scozia mi pare di capire che è un paese ovviamente di grande natura, grandi paesaggi, un po' di pioggia perché sicuramente la si prende, però anche storia e quindi città molto. Molta, 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 molta storia e sì, effettivamente è proprio così. Allora, tanta roba la Scozia, hai assolutamente ragione e Gianni, buon compleanno perché io non ti ho fatto gli auguri. È una terra magica, è una terra misteriosa, con i suoi spettacolari paesaggi dal fascino indiscutibilmente irresistibile. Nel nostro immaginario collettivo, pensando alla Scozia, ci vengono certamente sempre in mente i suonatori di Cornamusa, vestiti con i tradizionali kilt, i castelli infestati da fantasmi, i cavalieri senza paura, i misteriosi laghi abitati da leggendari mostri. Ma scoprirete con me questa sera che ben altro si nasconde in questo scrigno di mistero, la bellezza della sua natura selvaggia, incontaminata, con i suoi paesaggi davvero incantevoli. Ma la Scozia è anche sicuramente, come dicevi prima tu Gianni, la patria di antichissime tradizioni, le cui origini si perdono addirittura nella notte dei tempi. Le prime che mi vengono in mente, fra le prime che mi vengono in mente c'è probabilmente il kilt, quindi questo tipico connellino scozzese che ha origini molto 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 antiche nell'area delle Highlands, le alte terre scozzese. Poi probabilmente a chi non vengono in mente i suonatori di Cornamusa, oppure il golf, per non parlare poi del whisky, tanto amato dagli scozzesi addirittura da essere considerato l'acqua della vita. Ma la Scozia è soprattutto mistero e leggende. Antichi castelli infestati da fantasmi, un misto rilassante di natura romantica, un crescendo di spettacoli magnifici, suggestivi, in luoghi quasi sempre sperduti e grazie a Dio ancora incontaminati, insieme a contesti selvaggi e solitari. E questa natura si contrappone al fascino delle sue pittoresche città, prevalentemente cittadine, alcune delle quali hanno un'atmosfera davvero fatata. Bellissime, ci sono delle immagini fantastiche, ho visto delle foto stupende. Allora iniziamo questo tour, giusto? Esatto, ho preparato questa cartina giusto per farvi capire che appunto partiamo da Glasgow e percorriamo tutta la costa nord-ovest per arrivare fino all'arcipelago delle Orcadi, all'estremo nord della Scozia, e riscendiamo verso la capitale, Edimburgo, costeggiando il litorale est. Allora dicevamo che il viaggio parte da Glasgow, partiamo che tra l'altro è la più grande città della Scozia, che è diventata una città eclettica, vivacissima, oggi è uno sicuramente dei centri più dinamici, frizzanti di tutto il Regno Unito. Qui per esempio vediamo il dark hill illuminato di notte. Glasgow è una città molto affascinante, vero? Assolutamente. Abbiamo fatto un itinerario, come dire, ipotetico, dove ci permette di toccare tutti i posti della Scozia, quindi so che ci porterai da Glasgow fino alle Orcadi, alle Ebridi, scendendo giù per tornare a Edimburgo. E come dire, queste due città, Edimburgo e Glasgow, sono due città veramente fantastiche. Sì, è molto diverso, molto diverse fra loro, assolutamente molto diverse, anche se hanno comunque qualcosa che le accomuna, perché per esempio anche Glasgow, nonostante sia più, cioè, è più all'avanguardia architettonicamente parlando, conserva comunque ancora eleganti sobborghi, questa prestigiosa università, splendidi palazzi in stile vittoriano, che danno testimonianza proprio del suo glorioso passato. Un'altra bella vista di, sull'elegante George Square, che sarebbe praticamente la piazza principale di Glasgow. Lasciamo Glasgow e proseguiamo il nostro viaggio verso il Loch Lomond, che è tra l'altro il più grande lago di tutta la Gran Bretagna. Ed essendo molto vicino a Glasgow, durante i weekend diventa veramente molto, una meta molto, molto animata. Arriviamo a Invererei, che è questo caratteristico villaggio di case bianche sulle sponde del Loch Fein, famoso anche per l'omonimo castello, che è la residenza, che è tuttora la residenza privata dei ducchi di Argyle. Questi, questi castelli ci chiedono, si possono visitare o si vedono solo esternamente? No, allora, la maggior parte dei castelli si possono visitare. Alcuni, che comunque vengono chiamati sempre castelli, sono in realtà solo delle rovine, quindi si visitano le rovine. Per esempio, invece, il castello di Invererei si visita assolutamente nell'interno. E tra l'altro ha legge una leggenda, perché dicevamo... Ah, mi hai raccontato le famose leggende, giusto? Hai ragione. Esatto, esatto. Perché appunto, dicevo che è tuttora la residenza dei ducchi di Argyle, ma la leggenda vuole che questi non siano probabilmente gli unici abitanti. Sembra, infatti, che il fantasma del suonatore d'arpa di famiglia si aggiri ancora fra le mura del castello. Infatti, si racconta che nel 1644 andava molto di moda. Il duca di Argyle si allontanò dal castello con il marchese di Montrose per una battuta di caccia. Sai che tra i nobili andava assolutamente molto di moda. E il suonatore, lasciato a corte, venne sorpreso dalla servitù sbirciare alla... praticamente la padrona. E per questo fu assolutamente impiccato. Ma pare che qualche volta lo si senta ancora suonare la sua arpa nella biblioteca. lì, posta in bella vista, tra l'altro io appunto ho visitato Cuccesale, nella biblioteca del castello. In buona sostanza, castello che vai, fantasma che trovi. Assolutamente. Ah, questa qua è la cugina di Carolina, la mia amica. Esatto, questo è carolone. Abbastanza per me. Allora. Cappellona. Cappellona. Allora, adesso riprendiamo il viaggio attraverso appunto le islands che ho citato prima, che sono le alte terre scozzesi, quindi ci stiamo spostando verso il nord, vaste, incontaminate, dove la natura e il silenzio regnano incontrastati. E attraverso la spettacolare valle di Glencoe, che non tutti sanno essere, è stata praticamente, è piuttosto nota, perché è stata il set del fantastico Skyfall, film di spionaggio della serie 007, 007, interpretato da Daniel Craig nel luoro appunto dell'agente segreto James Bond. Raggiungiamo l'area di Fort William, questo caratteristico e piacevole villaggio adagiato sulle sponde del L'Oclini e finalmente raggiungiamo la romantica isola di Sky, famosa per i suoi paesaggi mottafiato, contornata da una splendida costa di circa 350 chilometri, fa parte dell'arcipelago delle ebridi inferiori o ebridi interne. Ci si ferma a dormire, ci si può fermare a dormire, ci chiedono da Facebook, saluto anche tutti i nostri amici di Facebook, che non abbiamo ancora... Assolutamente sì, ci sono strutture sull'isola, assolutamente sì. E certo, un mese di agosto... Scusami l'interruzione, ci chiedono ancora, al di fuori delle città grandi, come sono le strutture alberghiere o sono delle cose confortevoli, sono dei bed and breakfast, come sono? Allora, più ti spingi a nord, più le strutture alberghiere sono molto molto basic, molto essenziali, però a differenza, diciamo, di quello che è un po', come dire, l'idea che ha la gente, sono comunque molto pulite, ma molto basiche. Chiaramente a Edimburgo e Glasgow, piuttosto che ad Abarth, in cui sono città più grandi, trovi gli alberghi di catena, soprattutto verso il nord, chiaramente ci sono, per esempio, lo vedremo quando arriveremo a Thurso, che è appunto l'ultimo paese in cima alla Scozia prima di traghettare per le Orcadi, lì ci sono 4-5 strutture e quelle vediamo in sostanza. Dicevamo, fa parte dell'arcipelago delle ebedi inferiori o ebedi interne, sono 36 isole, di cui le più grandi sono appunto Sky e Mull, sono le più popolate, e pensate che qui, in alcuni villaggi, si parla ancora il gaelico scottese. E attraverso il ponte che collega l'isola di Sky e il resto della Scozia, si raggiunge il famosissimo fotogenico castello Eilean Donan, con la sua storia davvero affascinante. Questo è il castello più fotografato in assoluto in Scozia, ed è uno di quelli di cui non si può visitare l'interno, perché le parti originali del castello restano per la maggior parte gli esterni, gli interni sono stati restaurati, ma vengono più che altro dati come location per degli eventi particolari, eccetera. E questa è un'altra standi da location utilizzata, pensate, come quartier generale del MI6 in Il mondo non basta, e parliamo sempre della saga di 007, ma questa volta interpretato da Pierce Brosnan. Il viaggio prosegue, dicevamo, verso la costa nord-ovest, selvaggia, mozzatiato, fatta di stradine strette e tortuose, dove si ammirano in continuazione paesaggi cangianti, ma sempre indescrivibili, e giungiamo quindi nella città, o per meglio precisare, nel piccolo villaggio di Terso. Ti faccio una domanda, scusami, adesso noi vediamo delle foto che sono veramente magnifiche, ma in un periodo estivo, cioè quando io vado tra, che ne so, tra giugno e settembre, piove molto ancora, oppure è accettabile? Cos'è un tempo, come diceva la nostra amica, quattro stagioni di giorno, come mi avevi accennato anche tu. Esattamente, è come la pizza quattro stagioni, esattamente. Perché, allora, se guardi, le precipitazioni sono abbastanza costanti nell'arco di tutti i dodici mesi dell'anno. L'estate vera da loro, in effetti, c'è luglio, diciamo fine giugno, luglio e agosto. L'estate vera significa un sole caldo, una temperatura addirittura abbastanza alta. Quello che può succedere è, come dicevi tu Gianni, che esce al mattino dall'albergo con un sole e un cielo terzo, un sole splendente e un cielo terzo, alle due di pomeriggio viene giù un acquazzone e poi magari soffia forte, forte il vento e riporta magari il sole. Fa veramente quattro stagioni all'interno di una stessa giornata. Però dipende, perché il clima sta molto, molto, molto variando. Io ricordo 30 anni fa, quando vendevo i tour in Norvegia, i Pullman non avevano l'aria condizionata, perché non ce n'era bisogno. Oggi in Norvegia i Pullman hanno tutti quanti l'aria condizionata. E di questi giorni, sentivo il telegiornale, i morti per il caldo a Vancouver, dove hanno una temperatura media in questo periodo di 21-22 gradi, sono adesso ben sopra i 40, sono a 47 gradi. a Vancouver, nel Canada dell'Ove, questo dice tutto. Pensa ai poveri orsi, come staranno patendo. Pensa, è vero, è vero. E allora dicevamo... Non c'è un mese più piovoso, è che in buona sostanza va bene tra giugno, luglio, agosto, settembre, più o meno. No, più o meno, più o meno. Cioè io, ovvio, mi è capitato anche di andarci d'inverno e chiaramente lì pioggia, neve, più chi se ne ha, chi ne metta. Invece durante la stagione estiva, io ci sono stata sia a luglio che agosto che a settembre, può capitare di prendere appunto quell'acquazzone, ecco. Però è molto difficile che piova tutta la giornata. Perfetto. Allora, siamo nell'estremo nord della Gran Bretagna continentale e terzo, appunto, è la porta di accesso al selvaggio arcipelago delle Orcani. Un arcipelago costituito da 70 isole, circa una ventina sono in realtà quelle abitate. Abbiamo la capitale mainland, l'isola più grande, che si raggiunge in circa 45 minuti di traghetto. Il mare normalmente non è così agitato, non vi spaventate. Molti pensano che l'unica attrattiva alle Orcadi sia la natura selvaggia e indomita. Ma sì, ma non è solo questo. Vi assicuro che non è così, perché pensate che abbiamo a questo sito di Broadcar, che risale all'epoca del Neolitico, contemporaneo al più famoso cerchio di Stonehenge, quindi è datato a 2500 a.C. e per non parlare poi del sito di Scarabrae, antisissimo insediamento emerso tra le dune di sabbia a seguito di una tempesta di vento nel 1850. Visiteremo naturalmente Kirkwall, la capitale delle Orcadi, che deve le sue origini alle invasioni dei vichighi norvegesi, perché siamo a due passi dai vichighi norvegesi. Kirkwall è anche molto famosa per questa meravigliosa cattedrale di San Magnus, in questa pietra tipica arenaria rossa e gialla. e ora lasciamo l'estremo nord della Scozia e rientriamo appunto nella capitale. Scusate, dovrei avere un boccio d'acqua. Vai tranquilla, io intanto ne approfitto prima di farti lasciare all'estremo nord. Allora, parto da un'osservazione che ha fatto grazie da Facebook, che dice che è stato un viaggio bellissimo, che le mandano solo le Shetland. Allora, volevo chiederti due cose. Innanzitutto, quali sono le, se ho ben capito, le principali differenze tra le ebridi e le Orcadi, che mi sembra che le Orcadi siano un po' più piatte, le ebridi più scogliere scoscese. Poi non so, lascio a te ancora dirci le differenze, ma sono due, però non sono assolutamente simili, quindi sono due parti differenti che devono essere viste. E poi ti chiedo anche qualcosa delle Shetland, che magari in questo viaggio stasera non stiamo immaginando, questo viaggio immaginare non stiamo toccando, ma magari ci racconti anche due cose, se vale o non vale la pena andarla a vedere, quanto è complicato. E' una domanda che ci hanno fatto, questi traghetti che devi prendere, se uno fa un viaggio da solo, cioè in fly and drive, bisogna sempre prenotarli in anticipo, si può arrivare e si passa. Allora, ti devo dire la verità, le Shetland non sono un prodotto che noi vendiamo molto volentieri. Ok. Per il discorso proprio delle difficoltà per raggiungerle, perché questi traghetti vengono molto sovente cancellati e poi soprattutto perché comunque un fly and drive alle Shetland risulta molto impegnativo, perché la rete di aria praticamente è quasi inesistente. Certo. Mentre alle Orcadi ci sono queste strade che possono essere, diciamo, strade nostre, statali, dei nostri paesi di campagna, ci sono molti ponti che collegano un'isola con l'altra, molte isole sono ponti, che tra l'altro sono ponti che sono stati costruiti dai prigionieri italiani che sono stati esiliati durante la Prima Guerra Mondiale proprio alle Orcadi. E a livello paesaggistico hai ragione tu. Le Shet, scusami, le ebridi sono esclusivamente natura, paesaggi più imperdi, più, più, un po' come dire, sono note tutte le scogliere di Moher che stanno in Irlanda, ma per far capire il tipo di paesaggi. Mentre invece le Orcadi sicuramente sono paesaggi, io direi, più morbidi, non ci sono montagne, alte montagne, e poi soprattutto ci sono cittadine da visitare, ci sono siti archeologici, quindi all'interno di un viaggio naturalistico, culturale, noi abbiamo scelto appunto, da parte l'isola di Sky, che è romantica e tutto quanto, abbiamo appunto scelto di includere le Orcadi, perché comunque sono 45 minuti di traghetto, come ti dicevo, da Giorno Gross. raggiungiamo quindi, quindi adesso riprendiamo il viaggio verso il litorale est, scusatemi, e raggiungiamo l'incantevole castello di Dan Robin, tuttora abitato dai duchi di Shatterland, ma visitabile, io l'ho visitato, e ho avuto anche il piacere di incontrare e conoscere, in una delle mie più recenti visite, appunto i proprietari di casa, e questo è il castello che in assoluto adoro di più della Scozia, sarò probabilmente molto romantica, lo amo per la magnificenza dell'architettura fiabesca, degli esterni, ma soprattutto per i suoi arredi particolarmente preziosi, non vi vorrei, non vi nascondo che ci vorrei nascere nella mia prossima vita. Ok, va bene. E guardate dalle vetrate del castello l'immagine di questi giardini meravigliosi che arrivano fino verso il mare, è veramente un posto davvero che ti incanta. non può certamente mancare in Scozia, diciamo nella, in tutta quella che è la regione dello Speyside, una sosta, fra una delle migliaia di distillerie che ci sono, per fare appunto la degustazione della famosa acqua della vita. E raggiungiamo Inverness, Inverness capitale e porta d'accesso alle islands, le alte terre scottesi, punto di raccordo proprio tra le alte terre scottesi e tutta la magnifica regione della Scozia orientale. E il viaggio riprende costeggiando il suggestivo Loch Ness. Oh, ci mancava il famosissimo lago di Loch Ness. Senti, ti faccio io una domanda perché so che tu, come dire, come rappresentante non puoi fare. Allora, a me hanno raccontato, io non ho visto, ci sono state che ovviamente su Loch Ness hanno fatto una incredibile operazione di marketing, soprattutto qualche anno fa, per cui è famosissimo, uno dei luoghi più noti di tutta la Scozia. E quindi tutti ovviamente ci vogliono andare o sei quasi obbligato ad andare. Nella realtà poi mi hai detto che quando arrivi lì è una cagata pazzesca, a parte lo scenario della bellezza. Scusa l'eufemismo, ma questa sera posso perdere. Ho detto io, non puoi dirlo tu. Tu parli del Visitor Loch Ness Center che hanno costruito, appunto con questo nest enorme verde. Sì, io non posso dire la parola che hai detto tu, però in effetti diciamo che è una cosa molto turistica che infatti noi non includiamo nei nostri itinerari normalmente perché è molto più piacevole ammirare il lago durante appunto il tragitto in Pullman. Però effettivamente il Loch Ness viene spesso ricordato proprio per Nessi, questa leggenda. Quindi il Loch Ness è un lago stretto e lungo 40 chilometri e gode appunto di una fama smisurata grazie a queste leggende legate a Nessi, il mostro delle acque, che da decenni alimenta la fantasia di tutti, scrittori, turisti, appassionati di misteri. Diciamo che vale la pena passarci, il lago è molto bello, dopo di che se uno ha dei bambini in famiglia va a vedere anche tutti i mentor center, altrimenti ci si può concentrare su altre cose. Esattamente, esattamente. Però effettivamente chi fa i viaggi fly and drive individuali comunque lo fa assolutamente. Certo. Perché anche qui c'era una volta un lago molto profondo, oscuro e sferzato dal vento. Se questa fosse una favola potrebbe sicuramente iniziare così. occorre viaggiare a ritroso nel tempo fino agli albori del Medioevo per trovare le prime tracce mai scritte di questo mitico, ipotetico mostro. Infatti la leggenda vuole che un monaco venne mandato nelle alte terre scottesi per cristianizzare le popolazioni locali e pare che partecipando a un funerale proprio sulle rive del Loch Ness venne assalito da un mostro da una bestia che strisciò fuori dall'acqua. Ma poi passò tanto tempo da allora furono davvero poche le menzioni a questo essere fino a quando nel 1930 giù di lì vennero registrate delle testimonianze di persone che videro una sagoma non ben definita a muoversi tra le acque dell'acqua. Secondo me avevano bevuto parecchia acqua di vita ma questo... Acqua della vita. Abbiamo grazia qua che ci dice che Gianni un mito Loch Ness è esattamente così stile Fantozzi. Perfetto. Abbiamo distrutto un mito magari di quelle cose. Proseguiamo con questi bellissimi posti. Ecco la cosa una delle veramente invece dei gioielli del Loch Ness è che sulle sue sfonde ha adagiato questo imperante il castello di Urquor che come ben vedete oramai sono le rovine del castello. Ha avuto innumerevoli passaggi di proprietà tra gli scozzesi gli inglesi fino a quando è stato fatto esplodere ed ecco perché è in queste condizioni per evitare che cadesse in mano ai giacobiti. Raggiungiamo Inverness che ogni anno attira migliaia di turisti da tutto il mondo con il suo affascinante mix di bellezze naturali pittoresche stradine rovine medievali siti storici e in rientro verso la capitale sostiamo a Centendrius cittadina allora innanzitutto resa unica e io l'adoro Centendrius è a poca distanza da Edimburgo pensa che quando vado a Edimburgo faccio comunque un salto a Centendrius resa unica da questa miscela di rovine medievali questi paesaggi costieri battuti dal vento e storici campi da golf qui infatti ha sede il mitico old course il campo da golf più antico del mondo beh Centendrius è proprio la patria del golf io avevo un cliente che ho mandato e mi ricordo che a parte la cifra non non bassa per per entrare a giocare in alcuni casi se tu hai un handicap particolare puoi entrare ti permette di entrare comunque mi ricordo che lui aveva l'entrata cioè il patto ce l'aveva alle 6 e 20 6 e un quarto del mattino lui non ha fatto una piega solo per poter calpestare l'erba di Centendrius mi ha detto mi avessero dato alle 5 io entravo alle 5 e pagavo quello che loro avrebbero voluto è la patria del golf quindi assolutamente assolutamente no non solo eh Centendrius ospita anche una prestigiosa e antichissima università eh dove studiò il principe William ed è arrivato il momento del gossip Gianni perdonamelo poiché non molti sanno che proprio qui il principe William incontrò e si innamorò perdutamente della sua attuale sposa Kate adesso sono emozionato vi racconto vi racconto che passeggiando nella via centrale del di Centendrius eh dove ci sono varie caffetterie eccetera eh c'è questa caffetteria che tra l'altro adesso è diventato un illi caffè dove pare che loro si siano dati il il primo bacio lo so che tu non sei un romantico ma le femmine questi dettagli caro Gianni interessano molto il gossip va benissimo questa è come dire abbiamo passato quella di la seconda cosa di oggi non la dico più perché è il caffè allora arriviamo nell'elegante Edimburgo eh che come chiacchieravamo stamattina secondo me la meno scozzese delle città della Scozia eh sia probabilmente per effetto del turismo sia soprattutto per eh la sua popolazione eh un po' sofisticata e sicuramente cosmopolita e con Edimburgo eh noi abbiamo qualcosa in comune Gianni giusto? Sì hai ragione me l'hai raccontato stamattina io non lo sapevo Edimburgo è costruita su sette colli esattamente come la nostra capitale lo sapevo proprio eh vi devo dire la verità se fate eh ne parlate con gli scottesi vi diranno che in realtà le colline della città sono molte di più ma di fatto quelle ufficiali sono esattamente sette proprio come i colli di Roma Castle Rock è senza dubbio il più famoso dei sette colli e pensate che circa trecento eh trecentocinquanta milioni di anni fa questa collina era un vulcano attivo oggi qui sorge il monumento più visitato di tutta la Scozia che è il Magnetico Castello di Edimburgo dal Castello di Edimburgo parte la eh strada più famosa del del centro Edimburgo parte il Royal Mile Edimburgo quindi questa città storica ehm allo stesso tempo molto molto giovane infatti sono tantissimi eh i musei i caffè i locali eh inoltre Edimburgo soprattutto durante l'estate chiaramente eh ospita un numero infinito di ehm di eventi immagino che molti di voi conoscano certamente il famoso military tattoo questa parata eh militare dove eh ovviamente non mancano le cornamuse scozzesi spettacoli con i fuochi d'artificio eh gli spari dei cannoni si svolge tutti gli anni durante tutto il mese eh di agosto e tra l'altro bisogna comprare anche biglietti con largo anticipo perché non so quanti mila visitatori fa tutti gli anni sì è vero c'è gente che va proprio quasi solo per quello e bisogna veramente muoversi con larghissimo con larghissimo anticipo però tutti mi hanno detto chi l'ha visto che è uno spettacolo magnifico dai bambini alle persone più anziane di qualsiasi strato tutti hanno rimangono affascinati sì è una è una bella parata assolutamente però vi assicuro che appunto non è l'unico evento in città eh degno di essere menzionato solo per citarne un altro che viene sempre fatto in estate eh c'è per esempio questo Fringe Festival che pensate che è il festival delle arti più grande al mondo un susseguirsi di spettacoli in strada e non solo di artisti provenienti da ogni parte del mondo e praticamente ogni angolo della della città si trasforma eh in un palcoscenico eh l'anno scorso eh scusate due anni fa l'avevano fatto eh a fine luglio mi dicevi a fine luglio esatto esatto e siccome siamo praticamente quasi in chiusura ed è quasi anche ora di andare a fare la pappa eh vi racconto cosa non dovete assolutamente perdervi eh a livello appunto di food eh di drink ne abbiamo già parlato dell'acqua della vita ma di food allora certamente il fish and chips questo è veramente il piatto nazionale della Gran Bretagna e con questo mi permetto di aggiungere non si va in in Scozia per il mangiare probabilmente ma per tutt'altro perché se il piatto nazionale è fish and chips beh poi ovviamente ci no però bisogna però bisogna cioè ci sono ristoranti per tutti i gusti però bisogna assolutamente assaggiarlo in effetti hai ragione perché tra l'altro è un piatto anche molto povero perché è un tranccio di pesce normalmente utilizzano il merluzzo pastellato e fritto accompagnato da patatine anch'esse belle fritte ma è una vera istituzione pensate che viene venduto nelle frigitorie che chiamano gli scozzesi chiamano chipsi e pensate che nel regno unito ci sono circa dodicimila chipsi contro 1200 rivendite della più famosa catena mondiale di fast food non faccio nomi perché non posso fare no non puoi ma abbiamo capito tutti quindi pensate dodicimila contro 1200 e per finire sempre in bellezza abbiamo il non non potete perdervi la full scottish breakfast che è questa sostanziosa colazione che nasce addirittura in epoca vittoriana ed è composta come vedete nel piatto da uova strapattate pancetta salciccia fagioli in umido funghi pomodori frittelle addirittura frittelle di patate si accompagna la mattina con tè o caffè pane molto spalmato di bel burro salato quindi praticamente stiamo parlando di una colazione che apporta circa 1200 chilocalorie quindi non particolarmente dietetica ecco però assolutamente diciamo che forse in un tour di sette di otto giorni prenderla tutte le mattine forse non è il caso però mi raccomando non venite via dalla scottia senza esservi fatti servire appunto una full scottish breakfast perfetto insieme un bel bicchiere di whisky e siamo a posto bello grazie tè e caffè ti ringrazio perché insomma il mangiare te l'avevo chiesto io e tu sei stata così cortese di aggiungere queste slide perché effettivamente insomma si può sopravvivere anche ai scorsi col mangiare a me è piaciuto molto allora a me affascina molto il paese questo paese perché non so come dire secondo me è un paese diverso l'Inghilterra è conosciuta soprattutto o comunque l'Inghilterra la Gran Bretagna Gran Bretagna soprattutto per la sua capitale per Londra che è un fascino unico Londra appartiene a quelle città che io chiamo non so come dire le città che i muri che respirano quelle città dove puoi andare una, due, cinque dieci volte hai tutto ma mi hai raccontato una cosa molto carina questa mattina quando abbiamo fatto una breve prova tecnica e cioè che ti piace moltissimo Londra però ti piace molto andare a visitare queste due cittadine che sono Glasgow e Edimburgo perché lo faccio dire a te a me ha colpito e l'ho trovato molto bello molto giusto sì allora io adoro Londra ma tipo che ci vado veramente molto suvente sia per piacere che per motivi di lavoro però Londra è una città che ti stressa io torno stressata da Londra perché anche i muri corrono a Londra cioè tu non riesci a camminare e a non vedere gente che ti sfreccia a destra a sinistra sempre di corsa in metropolitana se non tieni la destra ti buttano giù dalle scale è tutta una fremesia è tutta gente che mangia sul metro perché non ha tempo gente che corre e poi c'è la borsetta di Barbary con le scarpe con il tacco quindi ha le scarpe da ginnastica nei piedi corre in ufficio insomma io vengo a casa che ho bisogno di decantare invece no Edimburgo e Glasgow più Edimburgo che Glasgow sono città decisamente a misura d'uomo per certi aspetti io mi sento come quando passeggio per le vie del centro di Torino io vivo a Torino è una città ritengo che sia ancora una città molto a misura d'uomo e talvolta quando vado appunto a Edimburgo mi prendo veramente cerco di prendermi del tempo per andare a scubare magari dei vicoletti dove puoi trovare la cacchetteria particolare piuttosto che il negozietto di ciampusaglie piuttosto che e proprio ti senti a tuo agio ma per dire anche uscire la sera fare la passeggiata in centro torno sempre molto rilassata un po' come quando torno dalle azzorre questa sensazione diversa ho capito mi piaciuta molto assolutamente la presentazione è ancora qualche slide a farci vedere se non hai altre slide allora torniamo noi due così salutiamo allora perfetto interrompo interrompo condivisione giusto? esatto ok perfetto così ci siamo si vede anche bene la mia compagna Carolina che io devo salutare allora io saluto tutti innanzitutto ricordo che questo è l'ultimo appuntamento poi facciamo come dire lasciamo passare l'estate riprenderemo dopo metà settembre ricordo ancora due cose oggi parlavo con te l'altra volta abbiamo presentato le azzorre mi hai detto che le azzorre sono pienissime ma poco fa mi hai detto che c'erano due posti che si sono liberati con partenza da Malpensa quindi se qualcuno volesse essere cioè fosse interessato ce lo dica velocemente 16 agosto 16 agosto abbiamo ancora due posti da Malpensa e cinque posti da Fiumicino perfetto poi ti richiedo ancora un'informazione sempre riguardante la Scozia invece il viaggio il giro che noi abbiamo visto è un viaggio che si può fare mediamente in quanti giorni in nove dieci dodici giorni allora noi lo facciamo l'abbiamo programmato in otto notti nove giorni certamente è un viaggio abbastanza come dire importante a livello di percorrenze arrivando fino alle Orcadi quindi per esempio per gli individuali io suggerirei almeno di aggiungere un paio di pernottamenti anche proprio per avere la possibilità come dicevo prima di gustarsi meglio Glasgow dove noi prevediamo solo in realtà una panoramica Edimburgo dove prevediamo solo una mezza giornata di visita a città quindi varrebbe diciamo che essendo la città di partenza la città a termine del tour se una persona comunque un po' d'inglese lo capisce o riesce a farsi capire come noi italiani anche a gesti si può sempre fare un giorno prima un giorno dopo unire il tour e quindi godersi un po' di più la città poi tra l'altro è un caso che noi l'abbiamo fatto in terra Glasgow perché in realtà Glasgow ed edimburgo è come dire malpensa e linate cioè ci sono 60 chilometri di distanza quindi si può benissimo arrivare su edimburgo parlo anche per gli individuali eventualmente e ripartire da Glasgow non è un problema perfetto va bene per il resto che dire noi abbiamo ancora dei posti invece per il nostro viaggio che accompagna il mitico Roberto che è il nostro esperto etnico tu non lo conosci ma se vai a vedere qualche per i viaggi lo potrai conoscere in Romania ci farà vivere una Romania molto particolare abbiamo mi pare ancora due posti o quattro posti disponibili non ricordo più gruppetto piccolissimo perché saranno mi pare massimo otto o nove persone perché si va in giro con un minivan chi vuole interessato ci viene a trovare per il resto auguro a tutti un'ottima estate noi ci siamo ovviamente come sempre saremo aperti tutta l'estate per seguire le persone che sono in giro ti saluto tantissimo Daniela saluto la mia amica Carolina tutti voi i nostri amici su Facebook e noi ci rivediamo a settembre con le novità e con i viaggi sperando che insomma la pandemia poco poco ci lascia un po' di strada e le varianti se ne stiano a casa loro che a noi non piacciono le varianti ci piacciono solamente le strade dritte senza variazioni speriamo io ringrazio tutti questi grazie Maria Stella ha detto che è stata particolarmente colpita anche dalla dall'esposizione nella appunto della della presentazione e Gianni ringrazio sempre tanto te per darmi questa opportunità per ospitarmi a casa tua e direi ancora buon compleanno e buon estate a tutti grazie mille un abbraccio un saluto a tutti buona serata e buon appetito un grande per il viaggio a tutti ciao 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 Daniela ciao Gianni devi chiudere anche tu eh sì sì grazie a tutti grazie a tutti